Qui ho un contratto Chagall Qui ho un contratto Chagall Qui ho un contratto Chagall Ultra 1 ci segnalano delle casse di scorte da prelevare Posizioni marcate sulla mappa tattica Chagall Scorte disponibili Prendete il necessario e raggiungete il prossimo obiettivo Prendete il prossimo obiettivo Ultra 1 avete preso tutte le casse di scorte Ottimo lavoro Prendete il prossimo obiettivo